Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Diandra e Valerio sono i primi concorrenti della nuova edizione di Temptation Island, il celebre reality show che tornerà in onda a settembre sotto la guida di Filippo Bisciglia. La coppia, insieme da oltre sette anni, ha deciso di partecipare al programma per affrontare una questione cruciale, il futuro della loro relazione. Diandra, veterinaria e imprenditrice romana, è fermamente decisa a rimanere nella capitale per proseguire la sua carriera e i suoi progetti. Dall'altra parte, Valerio, dipendente statale, desidera trasferirsi a Brindisi, vicino alla sua famiglia, per condurre una vita più tranquilla. Nel video di presentazione rilasciato su Instagram, Diandra racconta la loro storia e il motivo della loro partecipazione. Sono Diandra, vengo da Roma e sono fidanzata con Valerio da sette anni e mezzo e da sette conviviamo. Sono una donna di 37 anni realizzata nel mio lavoro, sono un medico veterinario e un'imprenditrice. Valerio, invece, è un dipendente statale e lavora in ufficio per sei ore al giorno. Scrivo a Temptation Island perché lui mi sta mettendo di fronte a una scelta di vita, vorrebbe che lasciassi Roma e le mie attività e lo seguissi a Brindisi dove c'è la sua famiglia e dove lui potrebbe mantenere il suo posto di lavoro. Valerio, da parte sua, ha una visione diversa, io, in realtà, ti ho proposto una vita leggermente più tranquilla rispetto al tran tran che viviamo a Roma. Diandra risponde chiaramente che non è pronta a cambiare il suo stile di vita, lui mi dice che basta un panino di fronte al mare e una camminata sotto alla pioggia, io non sono da due cuori e una capanna, e non lo è neanche lui perché quando lo porto sulle barche di 50 metri dei miei amici non sembra di sdegnare questo stile di vita. Io sono convinta che non abbandonerò la mia vita a Roma. Valerio, determinato, ribadisce, io, invece, sono convinto che non cambierò idea, io qui a Roma non ci resto. Ti piace il video? Iscriviti, attiva le notifiche, metti un mi piace e lascia un commento. Il tuo supporto è prezioso. Il pubblico di Temptation Island ha reagito con entusiasmo alla rivelazione della coppia, accogliendo con curiosità e ironia le prime battute tra Diandra e Valerio. Alcuni spettatori hanno già iniziato a scherzare sulla situazione, con riferimenti a Checco Zalone e commenti sul posto fisso. Tuttavia, solo il tempo ci dirà se questa coppia riuscirà a trovare un compromesso o se le loro strade si divideranno. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video.